Un insegnante su tre non è specializzato in didattica speciale, un terzo delle 200.000 cattedre è collocato su organico di fatto e quindi assegnabile solo ai precari, che coprono oltre la metà dei posti complessivi, e le procedure di assunzione vanno avanti a rilento. Sono solo alcuni dei nodi mai sciolti del sostegno italiano ai 340.000 alunni disabili frequentanti le nostre scuole, che si ritrovano in due casi su tre a cambiare docente ogni anno. Per sollecitare l'amministrazione scolastica a risolvere questi problemi, il 4 settembre si svolta una manifestazione davanti al Ministero dell'Istruzione. Ad organizzarla sono stati il Comitato Docenti di Sostegno e i Comitati dei Genitori degli Studenti con Disabilità, per esprimere il loro dissenso contro le politiche educative del Ministro Valditara, considerate inadeguate per garantire un'istruzione di qualità inclusiva. Alla protesta hanno anche partecipato delle delegazioni di alcuni sindacati rappresentativi. A parlare ai nostri microfoni è stata Grazia Maria Pistorino, di FLCCGL. Noi abbiamo ribadito con forza dal primissimo momento del nostro intervento che il primo obiettivo della scuola deve essere garantire la stabilità e la continuità della didattica, del rapporto tra docenti e studenti, a partire dalla stabilizzazione dell'organico di diritto. Questo è il primissimo tema su cui l'amministrazione ha naturalmente opposto delle resistenze, ma che è sicuramente l'antidoto primario alla discontinuità didattica. Ricordiamo che ben il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno ogni anno, il 9% addirittura durante lo stesso anno scolastico. Ma i problemi non finiscono qui. Successivamente è stato affrontato il tema della copertura dei posti ad incarico annuale, quindi dell'organico in deroga, con una serie di difficoltà rappresentate dall'amministrazione che appunto riguardano primariamente il segmento della scuola dell'infanzia, la scuola primaria al nord del paese, in alcune parti specifiche del paese, mentre in altre parti le graduatorie, soprattutto quelle del sostegno alla secondaria, sono sature. Questo per voce dell'amministrazione. C'è da dire che il rapporto all'unno-insegnante, pari a 1,6, è migliore di quello previsto dalla legge, solo che tra gli insegnanti di sostegno ben uno su tre non detiene l'attessato di specializzazione, con il 12% di insegnanti annuali che viene assegnato in ritardo. Pistorino ha anche affrontato il nodo dei titoli di specializzazione esteri. Il tema più caldo che è stato rappresentato è sicuramente però la contrarietà all'utilizzo dei titoli esteri in una modalità ancora priva di controlli. Su questo tema abbiamo chiesto come FLC un'ulteriore coda di informativa per verificare i numeri che sono stati coperti dalle verifiche da parte del Ministero e abbiamo quindi rappresentato la contrarietà a questo inserimento a pettine nelle GPS da parte dei docenti con titolo di specializzazione conseguito all'estero e però ancora non validati. Naturalmente i problemi sono molti e il tema più grave è quello dei colleghi che a settembre hanno potuto verificare la mancata assunzione dopo anni di specializzazione e delle famiglie che sono prive del diritto al docente di sostegno per i loro figli alle classi che sono prive di questo prezioso contributo. Noi naturalmente proseguiremo la nostra battaglia di rivendicazione di una scuola di qualità a partire appunto dalla stabilizzazione e proseguiremo questa battaglia insieme a famiglie e a docenti. Grazie. 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 Grazie.